Grazie a tutti. 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 Per il primo quadriennio rimarranno immutati i criteri di liquidazione dell'indenità aspettanti sia i giudici di pace che i giudici onorari di tribunale che i vice procuratori onorari. Grazie, onorevole Guerini. A facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Andrea Colletti. Prego. Grazie, Presidente. Descriverò brevemente perché il Movimento 5 Stelle ha deciso di presentare la propria relazione di minoranza e soprattutto perché è controllato questo disegno di legge delega. Parliamo dal principio, ovvero dai rilievi di legittimità costituzionale del presente disegno di legge delega, tant'è che in realtà per alcuni profili vi è una insufficiente determinazione dei principi e criteri direttivi, ex articolo 76 della Costituzione, giò che alcune previsioni costruiscono una vera e propria delega in bianco. Parliamo ad esempio della determinazione del compenso dei magistrati, che viene specificata ma che non viene prevista minimamente nel disegno di legge. Grazie. 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 Grazie.